Per me la mozione è finita. Ci sono territori in cui siamo stati letteralmente ignorati, umiliati, cancellati. Benissimo, questo non toglie che il nostro cammino va avanti più e più di prima. In quei territori, a partire da me, passando per Sandra in Toscana, Antonio in Sicilia, addirittura dove neanche c'è il diritto di tribuna, hanno voluto ignorare le nostre indicazioni. Non c'è problema, la mozione è finita. Io ho cancellato le iniziative laddove c'è stata questa mortificazione. Io non ci vado in Toscana a dire votate Martina. È questo l'audio shock di Matteo Richetti che manda in subbuglio il PD anche in Toscana in vista del congresso. Nella prossima settimana Richetti si riferisce a Sandra Capozzi, esponente del PD Pisano, rappresentante di quella corrente all'interno del partito che a suo dire è stata completamente esclusa nella formazione delle liste. Quindi nella nostra regione lui, che doveva essere il braccio destro di Martina, non si farà vedere. Le dure accuse sono piovute in particolare addosso a Luca Lotti, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex ministro dello sport che, secondo Richetti, farebbe ancora il bello e il cattivo tempo. All'interno del partito, l'altro braccio destro di Matteo Renzi durante tutti questi anni, ovvero Maria Elena Boschi, ha annunciato invece che al congresso voterà per Roberto Giacchetti, il candidato che più di ogni altro sta rivendicando l'operato dei governi Renzi e Gentiloni. Io non penso che la nostra sconfitta elettorale sia dovuta al fatto che abbiamo governato male, ha detto Giacchetti al Corriere Fiorentino, siamo finiti dentro ad un vento che ha colpito e in qualche caso distrutto, vedi i socialisti francesi, la sinistra di tutta Europa. La campagna elettorale è stata caratterizzata da quelle che io chiamo polpette avvelenate, ovvero le fake news. Davanti a situazioni complesse, Lega e 5 Stelle hanno proposto soluzioni semplici per prendere voti, mentre noi abbiamo fatto proposte responsabili. La mia posizione rispetto a Martina è diversa, lui chiede scusa per gli errori che avremmo commesso, io rivendico tutto e non chiedo scusa. Siamo partiti insieme 5 anni fa e approderemo dalla stessa parte, semplicemente ci arriveremo per strade diverse, dice Giacchetti.